Configurare la tua casella di posta Aruba con Mac Mail è semplicissimo. Ti mostrerò i passaggi per raggiungere un account. Apri il programma. Dal menu principale, clicca su Mail e poi su Impostazioni. Nella schermata che si apre, clicca sul più in basso a sinistra. Ora, scegli Altro account mail e Continua. Nella finestra di dialogo, indica il nome che vuoi che compaia come emittente. L'indirizzo email per esteso e la password della casella che stai configurando. Clicca Accedi per proseguire. Se il programma non acquisisce automaticamente i parametri, inseriscili manualmente, indicando il nome utente, cioè l'indirizzo completo della casella. Nel server di posta in entrata digita imaps.aruba.it. Se invece vuoi utilizzare il protocollo POP oltre a scrivere pop3s.aruba.it, devi cambiare il valore nel campo Tipo di account e quello in uscita smtps.aruba.it. Al termine, clicca Accedi. Seleziona le app che devono utilizzare l'account. Perlomeno mantieni selezionato Mail e poi clicca Fine. Ora è il momento di correggere qualche impostazione automatica. Clicca a sinistra sull'account appena creato. Nelle sezioni Server di posta in entrata e Server di posta in uscita, deseleziona Gestisci automaticamente impostazioni di connessione. Nella porta della posta in entrata scrivi 993. Assicurati che sia selezionato USA TLS SSL e che in autenticazione ci sia Password. Nella porta della posta in uscita scrivi 465. Assicurati che sia selezionato USA TLS SSL e che in autenticazione ci sia Password. Per confermare, clicca Salva. Terminata la verifica dell'account, la tua casella è pronta. Puoi usarla da subito. Paxofia Parlare Super Pattvari